Le pagelle di Juventus-Roma, vancher tra i migliori, i peggiori in assoluto sono Salah e Pjanic. Scesni, voto 6 e mezzo, incolpevole sul gol di Dybala, salva poco prima su Evrai immolandosi. De Rossi, attento e concentrato tra i pali, viene chiamato spesso in causa dai retropassaggi giallorossi e non sempre i rinvii sono precisi. Manolas, 6 e mezzo, dietro la Roma fa buona guardia e lui con De Rossi vicino sembra più tranquillo. Fatica quando deve iniziare l'azione ma questa non è una novità. De Rossi, 6, mezzo voto in meno per il nervosismo che lo porta a prendersi un giallo evitabile in avvio col pestone su Mandzukic che regala anche una punizione dal limite alla Juve. Storie tese con il croato, troppo tesi in effetti e le telecamere lo pizzicano a dire qualche parola di troppo al bianconero. Per quanto riguarda la gara, la sua presenza dietro è preziosa e dà una grossa mano ai compagni di reparto, con i quali dimostra di avere già trovato un buon feeling. In occasione del gol bianconero esce con una frazione di ritardo su Dybala al centrocampo, lasciando scoperta la difesa. La colpa del gol non è però solo sua. Florenzi perde palla, Pjanic non perviene, che i tai idem. Rudiger arriva a chiudere con una frazione di secondo di ritardo su Dybala. Ognuno ha piccole colpe ma alla fine è anche vero che l'argentino fa un gran gol e tanti meriti sono suoi. Rudiger voto 6. Nomen omen. È rude. Tanto rude. A tratti troppo rude. Chiedere a Dybala per referenze. Spesso viene chiamato in causa dai compagni in fase di impostazione e i piedi non sono quelli di Messi. Neanche quelli di Bonucci purtroppo, ma diciamolo a voce bassa. Fa il suo con le colpe condivise sul gol di qui sopra. Florenzi 5.5. In avvio è forse il migliore, ma si perde per strada col tempo e appare troppo nervoso. Emblematica la strigliata che si becca da Spalletti quando viene richiamato in panchina. Devi stare zitto in campo gli intima il mister e non passa inosservato alle telecamere. Sul gol perde una palla sanguinosa sulla tre quarti cercando un dribbling improbabile su Pogba che se lo mangia. Pjanic 4. Impalpabile. Dovrebbe essere il nuovo pizzarro di Spalletti, ma il Cilene voleva tutti i palloni. Lui invece si nasconde spesso e volentieri. Mai uno spunto. Non punge più neanche su punizione. Sembra mancare di personalità. Con quei piedi potrebbe disegnare calcio, ma si limita a fare il compitino facendolo anche male. Wancher 6.5. Il contrario di Pjanic è quello dal quale non ti aspetti niente. E invece ti tira fuori una partita completa. Mena, recupera, si sbatte, imposta e prova la giocata. Non sempre gli riesce, ma ci prova. Forse non è un caso che quando esce lui la Roma prenda gol. Keita, senza voto, entra al posto di Wancher e la differenza oggettivamente si vede. Poco dinamico, non è ancora in condizione. Digne 5.5. Asprazzi bene, soprattutto in avvio quando fa qualche sortita avanti. Sembra più solido dietro, ma con l'andare del tempo non accompagna quasi mai l'azione. Non spinge quasi mai, contribuendo a tenere la squadra troppo bassa. Timido. Nainggolan 5. Sembra faticare molto a trovare la posizione giusta in campo. Spalletti gli dà libertà di movimento, ma lui non trova le coordinate giuste per incidere. Ha una discreta occasione nella ripresa e calcia anche bene appena dentro l'aria, ma Pogba è reattivo a deviare in angolo. Non ha le incursioni nelle corde, ma a dire il vero non c'è neanche chi potrebbe premiarle queste incursioni. Salah 4. Divide la palma di peggiore in campo con Pjanic. Che dire della partita di Salah? Prova a fare poco e quel poco non gli riesce. Inesistente. Dzeko 5. Dunque, sbattere si sbatte, ma fa tenerezza. Vede pochi palloni e quei pochi sono sporchi. Se la squadra non lo supporta a dovere, rischia solo di intrestirsi là davanti. Spalletti 5.5. In versione Guglielmo Tell nel post partita lancia una frecciata alla squadra, che pecca di personalità. Una frecciata a Garcia, che gli ha lasciato una squadra non pronta tatticamente, sulla quale deve lavorare molto. Redarguisce Florenzi che protesta troppo durante il match. Davanti alle telecamere sembra sfiduciato e questo non è un buon segno. L'insufficienza, però, è soprattutto perché insiste troppo con Salah e la scelta di Nainggolan avanzato non convince del tutto. www.pronosticoonline.com Rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa. Audiosport News www.pronosticoonline.com 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 www.pronosticoonline.com